ciao a tutti benvenuti su magisoflotus prima di iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale lasciare un like commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su youtube a partire da 0 99 centesimi al mese su twitch invece con amazon prime video potete avere l'abbonamento gratuito se lo fate ricordatevi di mese in mese di rinnovarlo perché scade quindi se volete entrato ogni tanto controllate e se è scaduto rinnovatelo ci fate veramente un piacere enorme ed è gratis se avete amazon pre video allora vi ricordo anche il nostro sponsor fantasy a store punto it uno degli store online più forniti italia spedizioni in 24 48 ore codice sconto lotus 5 per avere 5 per cento di sconto sui prodotti non scontati ma qualcuno ci chiede ma se compro un prodotto già scontato posso aiutarvi in qualche modo assolutamente sì durante checkout nelle notte scrivete consigliato da magis of lotus e questo comunque crea ancora un rapporto più forte con il nostro sponsor ci teniamo veramente tanto perché lavorano veramente bene sono tutti ragazzi giovani li conosciamo pensate che siamo stati contattati da fantasia da una persona che è uno dei proprietari di fantasia eccetera che ha giocato abbiamo giocato anche contro assieme ad un torneo di magic 6 7 anni fa quindi pensate voi a quante piccolo il mondo infatti mi dice ma tu sei marco quello che contro cui ho giocato a milano a quelle region al si ero io e avevamo giocato e adesso collaboriamo quindi è veramente molto molto bello sono veramente molto bravi allora altra cosa ho cambiato il microfono anche se non era rotto eccetera fatemi sapere se si sente un pochino meglio soprattutto chi guarda tutti i miei video se ne accorgerà magari un po di più o se si sente peggio eccetera io ho fatto dei test e mi sembrava leggermente migliore quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace di più di cosa parliamo oggi a ecco mi segnalo sul loro sito se volete lord of the ring hanno il draft box a 169 99 eccolo qua già scontato e potete anche tramite scala pay pagarlo in tre rate quindi vi pesa anche meno e poi il set booster a 199 99 già scontati quindi come vi dicevo prima niente codice sconto ma potete scrivere nelle note consigliato da amici soft lotus allora oggi parliamo proprio di lord of the ring ma rispetto agli ultimi video in cui ho parlato di queste di queste carte parliamo della del set base quindi il primo set andiamo a vedere un po l'andamento futuro che ci può essere su alcune carte quali potrebbero salire eccetera ma andremo a vedere solo quelle che possono salire quelle che possono scendere in questo momento non non è così interessante per il video in quel caso sarebbe veramente lunghissimo allora non ho incluso the one ring facciamo un paio di discussioni su questa carta tanto è quella più iconica del set 90 euro prezzo di partenza carta che spai cata nei mesi scorsi fino a due mesi e mezzo fa si trovava 30 euro in meno circa non si faticava a trovarla 30 a 60 euro circa ed è salito ci sta che salga fate conto che per esempio i bundle dove si trova la versione full art stanno finendo infatti si sono alzati di prezzo anche quelli è normale cioè la wizard ne ha stampati tanti però a un certo punto sono finiti cioè non arrivano più i fornitori non arrivano più i negozi anche i box piano piano comunque stanno perdendo attrattività e stanno man mano probabilmente finendo anche se i box normali non collector la wizard potrebbe stamparli finché vuole però se poi la community è concentrata su model horizon 3 secret layer dei set particolari ovviamente non è che continua a comprare lord of the ring all'infinito quindi questo fa sì che le carte di valore che vengono tanto richieste piano piano salgono il set è stato comunque stra aperto come vi avevamo detto prima che uscisse più di un anno più di un anno fa il set è stato veramente stra aperto infatti le copie disponibili di alcune carte sono veramente infinite ma di altre lo sono meno infatti in questo video andremo a vedere quali sono le carte con meno disponibilità rispetto a quanto vengono giocate a quanto vengono richieste la prima carta che mi aspetto che salga orcibo master in realtà se voi guardate il grafico è già in salita leggera ma è già in salita 872 coppie per questa versione la carta è proprio una staples sia in in modder che in altri formati e viene richiesta continuamente e in molte copie questa è una carta che secondo me ha un prezzo basso ragazzi 872 copie 30 40 42 euro è un prezzo che non è in linea secondo me rispetto alla richiesta è vero come vi ho detto prima che una rara il set si è aperto tanto però questa è proprio la carta della rara del set ed è attualmente dopo più di un anno dall'uscita ancora stracomprata se mettete in vendita 4 cibo master difficilmente vi rimarranno rimarranno in vendita per più di una settimana è veramente difficile capito quindi c'è proprio una richiesta abnorme quindi orcibo master mi aspetto che salga nel prossimo futuro prossima carta palantir of ortnac 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 palantir carta bellissima allora invece questa ha un andamento un po diversa 1060 coppie mitica quindi più difficile da aprire in teoria ma più copie dell'orcibo master 10 12 euro il prezzo di adesso mi aspetto che salga in futuro ma qua c'è una differenza grossa rispetto all'orci molto ma molto più lentamente viene richiesta un au pair per commander 1 per per le collezioni quindi alla fine la richiesta non è minimamente paragonabile a quelle della carta vista in precedenza quindi mi aspetto sia una salita ma piano piano magari fra un anno mi aspetto che ci siano 6 700 copie di questa versione in vendita e quindi il prezzo sarà magari 14 18 16 20 euro capito quindi una una crescita sì ma più lenta nel tempo quindi non è un buon investimento se volete spendere soldi per avere un rientro subito invece può essere un investimento discreto per chi invece non ha fretta e ha tanti soldi quindi dice mi prendo due tre quattro palantir o regularo foil guardate il foil eccolo qua non dovrebbe essere tanto più alto eccolo qua 213 copie se dovete scegliere prendete sempre foil se dovete scegliere e il prezzo è simile prendete foil in inglese non in giapponese le folli in giapponese sono molto meno care perché in giappone il prezzo di questo tipologia di carte è meno caro quindi cosa succede tanta gente negli ultimi anni importa le carte al giappone che è molto più facile adesso e le mette in vendita quindi si crea questo disequilibrio le carte in giapponese poi sono meno richieste rispetto a quelle in inglese è una nicchia non è il mainstream ok quindi le carte in inglese se potete devono essere sempre predilette come investimento rispetto a quelle giapponesi quasi sempre ci sono pochissimi casi in cui le carte giapponesi sono migliori il mondo è cambiato dieci anni fa era totalmente il contrario prossima mitica last march of dance ecco questa è una carta che ragazzi ha un disequilibrio fra prezzo e copie disponibili 519 le copie disponibili e 8 10 euro il prezzo troppo basso mi aspetto che spai chi mi aspetto che possa andare anche a 20 euro è una carta che sarà comprata probabilmente in comandare è veramente molto incisiva e giocata in diversi deck diversi comandanti è una bella carta e per questi motivi mi aspetto proprio che sia una carta che spai chierà ci sto pensando se investire su delle copie in questo momento di questa carta o altre cose da prendere che mi sembra che possono avere possono essere degli ottimi investimenti ma anche questa lo è forse la migliore o comunque una delle migliori carte da comprare in questo momento della versione base di lord of the ring fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate vi apro la versione foil eccola qua sta praticamente uguale quindi prendete le foil che ci sono 99 copie disponibili ragazzi questa è veramente da prendere sono veramente poco vi faccio vedere anche le altre copie che esistono eccolo qua c'è anche la versione alternativa a me non fa proprio impazzire questa versione qua però per le copie disponibili vedete la pagata è sempre uguale e ce l'avete non è più rara vedete 141 ecco questo è un segnale quando vedete che le copie della versione extra sono più alte invece rispetto a quella normale è perché non piace il disegno probabilmente quindi questo disegno qua piace meno rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima questo qua che è molto bello alla prossima carta natsgool e questa è solo la versione che trovate nel nel set base gli altri sono come extra infatti il numero 100 allora vi faccio un discorso sui natsgool in generale sono carte iconiche molto richieste per il per il collezionismo e in realtà non sono per niente scarse come carte non sono male ci possono essere anche dei deck in commander eccetera che vogliono giocare nove nove natsgool e quindi poi ovviamente le persone se ne devono giocare nove li vogliono tutti diversi vogliono tutti disegni quindi è una carta iconica le copie sono veramente poche e il mio pensiero è che questa carta possa salire come ho detto prima magari non salirà di botto ma ci sarà un momento dove vedete come la foil in inglese a 18 euro vedete quello che vi dicevo prima 10 euro in giapponese 18 in inglese non l'avevo visto prima quindi quando vi dico queste cose seguitele perché sono la realtà prendete i vostri vestimenti in inglese se qualcuno mi dice Marco ma io preferisco prenderne due in giapponese foil rispetto a uno in inglese ci sta benissimo ma di base quando il prezzo invece è molto simile prendete la versione in inglese altra carta che sono sicuro che salirà ed è già salita un po' vedete che le copie in inglese sono più alte e mitri il coat ve l'avevo messa anche negli investimenti ne avevamo parlato è una carta veramente molto molto forte tremana indistruttibile flash un equipaggiamento che si attacca ed è indistruttibile tutti i lati positivi in questa carta ed è molto forte in commander 841 copie per una rara sono veramente poche carta che salirà quasi sicuramente ci sono anche altre versioni con vi faccio vedere le versioni queste qua che sono ottimi investimenti guardate 32 copie disponibili in nulla assoluto 112 la surge e poi ci sono queste qua con la versione full art veramente nulle in teoria è meglio comprare queste qua della della ristampa in questo video voleva volevo parlare di della prima stampa di lord of the ring quindi non ho messo subito quella la versione foil vedete 10 euro in inglese guardate in giapponese come sta molto più bassa perché come vi dicevo adesso c'è tantissima gente che importa dal giappone è molto facile si conviene comprare dal giappone però poi vedete cosa succede tantissime copie a prezzi bassi ma che poi si fa fatica comunque a venderle quindi non è detto che sia così conveniente moon doom altra carta stra iconica carta in realtà neanche scarsa perché ci permette di fare un reset del board tenendo le creature che vogliamo noi quindi le nostre sacrificando the war ring o un altro artefatto leggendario serve tanto mana però la carta non è male ok in più può sparare un danno a tutti gli opponent a diversi lati positivi una buona carta secondo me mille copie disponibili anche qua come vi dicevo per il palantir è più una salita step by step quindi piano piano lenta nel tempo non è una salita verticale quindi se volete investire su questa carta fatelo ma sappiate questa cosa qua mille versioni belle sono tutte belle queste sono salite a prezzi incredibili la versione poster ve l'avevo detto e così è successo e niente però anche la versione normale la versione foil queste alternative sono comunque ottimi investimenti prossima carta elvenciorus carta fortissima in commander e in realtà nei mazzi pieni di creature è veramente una bomba guardiamo la prima carta in ogni momento possiamo giocare le creature dalla cima e le creature hanno tappa prendi un male di qualsiasi colore carta completa fa tutto ciò che vogliamo ci fa fare vantaggio dalla cima ci fa rampare eccetera non ha sfighe la sfiga a livello di prezzo qual è che è stata stampata in questo set che è stra aperto quindi vedete pur essendo una rara richiesta 1636 copie ancora disponibili ma scenderanno nel tempo anche qui ci sono tante versioni foil surge eccetera fate un po i conti con gli articoli disponibili ma questa è una bella rara da prendere in questo momento è veramente basta basta come prezzo l'orien revealed staples del pauper carta veramente fortissima praticamente nel 90% di mazzi col blu si gioca difficilmente se giocate blu non la giocate qualche deck c'è ma sono veramente pochi e il futuro di questa carta può essere solo in salita le coppie sono comunque tante 3700 però la richiesta è proprio altissima prima o poi le coppie inizieranno a finire e questa è una carta che ragazzi io non mi immagino che possa uscire nei prossimi tre anni dal meta pauper ma assolutamente no quindi ha proprio tanto tempo per salire veramente tantissimo anche qui investimento lento e se volete prendete la foil che è meglio loto carta che guardate qua oppala ci apprestiamo ad uno spike probabilmente perché è una carta fortissima in commander multiplayer 2-1 costo 2 quando un giocatore gioca la seconda spell in ogni turno tu perdi una vita e crea un treasure token ragazzi ogni giro rischi di fare 1-2 treasure token e questo è veramente fortissimo soprattutto se lo pensiamo in una strategia bianconera che non è famosa per rampare ok quindi fortissima carta che in altre versioni è già alta e che in questa versione invece è bassa carta che secondo me ci si può investire veramente può essere una delle migliori carte di questo video veramente veramente una gran carta Troll Kazandum carta anche qui da Modern da Pauper stesso discorso per Ori and Rebuild non mi dilungo troppo ottimo ottimo investimento però piano piano è già salita perché prima all'inizio si vendeva veramente a pochi centesimi adesso sta già a un euro soprattutto se volete più copie in inglese ed è un'ottima veramente un'ottima ottima carta ultima carta di questo video Casting to Fire ecco questa ha molte più copie disponibili ma anche questa è una Staples delle side di Pauper si gioca tanto lo sciamano gorilla è un suo avversario per essere presenti nelle side di Pauper però questa è una carta diversa esiglia e non distrugge e fa anche danno a due creature quindi ottima carta costa veramente niente e nel tempo può salire quindi no babà se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate perché sono molto molto curioso fatemi sapere anche sull'audio se è leggermente migliorato ciao ragazzi e alla prossima ciao 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 ciao